Tom, il carro attrezzi! Ciao Edgar! Sembra che tu abbia davanti una giornata impegnativa! Ehi, attento! Wow, devi essere bravo in questo! Bel lavoro Edgar! Ehm, quel mucchio mi sembra pesante Edgar! Fa un po' più d'attenzione amico! Ehi Edgar, tutto bene? Oh no, la benna è rotta! Come farai a finire il lavoro? Ma Edgar, non ti preoccupare, va bene? Chiamerò Tom il carro attrezzi che ti metterà a posto in un lampo! Ehi, Tom! Tom, abbiamo bisogno del tuo aiuto! Edgar, l'escavatore, è in difficoltà! Ha bisogno di essere aiutato in fretta! Sbrighiamoci, Tom! A sinistra! Veloce! Ottimo! Ora, all'incrocio, prendi la strada a destra! Ti condurrà al cantiere! Ed eccoci al cantiere! Riesci a vedere dove si trova Edgar, Tom? È tutto ok, Tom! Vieni, andrà tutto bene! Basta essere un pochino più attenti! Guarda là, Tom! Riesci a vedere Edgar ora? Povero Edgar! Ha l'aria così sconvolta! Ehi Edgar! Tom è qui! Non c'è più nulla di cui preoccuparsi! Ti porteremo al garage, Edgar! Siamo pronti, Tom? Avanti, andiamo! Attento, Tom! Viaggio difficile, eh, Tom? Ma guarda, abbiamo raggiunto il garage ora! Edgar, Tom adesso ti darà un'occhiata! Allora, cosa ne pensi, Tom? Sì, troviamo una nuova benna per Edgar! Andrà bene questa, Tom? No? E che ne dici di questa? No? E di questa, allora? Perfetto! Fantastico! Così ora la benna è a posto! Cosa facciamo dopo, Tom? Sì, hai ragione! Dovremmo riparare quella portiera! La, Tom! Ho visto il saldatore sul terzo scaffale! Stiamo dimenticando qualcos'altro, Tom? Esattamente! La maschera protettiva per proteggerti gli occhi dalle scintille della saldatura! E' ora di iniziare! Attento ora, Tom! Anche tu, Edgar! Wow! Sembra che vada bene, Tom! Niente più portiere sbilenche di cui preoccuparsi, Edgar! E questo ti rende un escavatore felice? Scommetto che lo fa! Niente altro, Tom! Stai pensando anche tu quello che penso io, Tom! Perfetto! Cominciamo, allora! È tempo di darti una bella lavata, Edgar! Sembra che Edgar se la stia godendo! Sei come nuovo, non è vero, Edgar? Sei pronto per andare ora! Ciao, Edgar! Buon divertimento! Ciao! Tom, ci vediamo presto! Ciao! 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 Giornata impegnativa! Stai inseguendo quella macchina che corre a velocità eccessiva? Guarda! È appena passata col semaforo rosso! Non lasciarti scappare quella macchina! Provaci, Hector! Ehi, Hector! Attento! Oh, Hector! C'è del fumo vicino alle tue pale! Hector! Attento! Attento! Ops! Oh, Hector! Non preoccuparti, ok? È stata semplicemente sfortuna se ti sei perso quella macchina! Oh, hai bisogno di aiuto, Hector! Chiamerò Tom il carroattrezzi per ripararti! Aspetta qui! Ah! Ah! Ehi, Tom! Tom! Abbiamo bisogno del tuo aiuto! Hector, l'elicottero è in difficoltà! Spreghiamoci, Tom! Susie? Tom giocherà con te più tardi! Ciao! Alla tua sinistra, Tom! Perfetto! Guarda, eccolo! Spreghiamoci! Ehi, Hector! Tom è qui! Non c'è più nulla di cui preoccuparsi! Ti portiamo al garage, Hector! Siamo pronti, Tom? No, Tom! Hector non ha le ruote! Sarà difficile spostarlo! Cosa dovremmo fare adesso? Mmm, idea brillante, Tom! Tu puoi andare a trovare un rimorchio, mentre io andrò a chiedere a Charlie l'autogru di darci una mano a sollevare Hector nel rimorchio! Charlie? Charlie? Abbiamo bisogno del tuo aiuto! Hector ha avuto un incidente! Vieni, andiamo! Ecco che arriva Charlie! Tom ha bisogno del tuo aiuto per sollevare Hector nel rimorchio! Mmm! 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 Attenzione! Perfetto, Charlie! Grazie per aver salvato la situazione! Arrivederci! Ciao! Abbiamo raggiunto il garage ora! Hector, Tom ti darà uno sguardo ora! Una delle pale del rotore di Hector manca! Sarà difficile volare senza! Troviamo una nuova palla per Hector! Questa andrà bene, Tom? No? Che ne dici di questa? No? Che ne pensi di questa? Perfetto! Ci siamo! Bel lavoro, Tom! Bene, cos'altro? Ok! Adesso viene il pattino di atterraggio! Sì, hai ragione! Dovremmo sostituirlo completamente! Mmm! Si sta rivelando un po' più complicato di quanto pensassimo! Perfetto, Tom! Abbiamo bisogno di altro? Abbiamo bisogno di altro? Una chiave inglese, naturalmente! Perfetta! Grande! Attento con le viti ora! Ed ecco il nuovo pattino di atterraggio! Bel lavoro, Tom! Ora Hector può stare perfettamente in piedi sul suo nuovo pattino di atterraggio! Adesso ci occupiamo del rotore di atterraggio! Adesso ci occupiamo del rotore di coda! Ok! Ora sei pronto per andare, Hector! bye bye Hector divertiti bene a presto Tom ciao